Beh raga, io sono Littorino, siamo qua su Roblox in questa modalità stratta in cui ci gioco ora un po' insieme a Vicky Buongiorno Buongiorno E poi ci faremo due tre partitine su questo giochino che è abbastanza interessante se volete approfondire guardate altri video Che sono molto carini Ti puoi mettere le skill Io ho messo in centro il mago Perché... mago per me E vedete, avete gli incantesimi, le cose, le cose, vedete, le spell, lo spell power, vuol dire le cose delle magie Invece il... Il danno magico Il danno magico Invece il... quello primo, quello rosso, è il danno corpo a corpo Che interessa soprattutto me, infatti io sono un guerriero Sì, infatti invece io colpiscono un libro, altro che mago merlino Esatto Vabbè, come... Invece io tipo ho altre skill molto diverse rispetto a quelle d'Elite Come si può immaginare Eh, è probabile Qua avete, potete unirvi a un dungeon Qua potete fare le cose, cosa vuol dire Ma noi faremo oggi Create dungeon La prima perché non sono tanto, molto alto di livello Insane Hardcore Vicky quando vuole entra Eh, ti sto cercando Eccola qua Ok, gioiniamo Non taglio neanche quindi, tanto a chi se ne frega Eh, eh, lascio il caricamento perché è bello Mi hai messo dungeon hard, hardcore? No Insane hardcore Tranquillo Ah, tu sei l'incoglionito, tu sei lì a livello 31, io ho 26 Ah, beh, venita anche io, ho cura, eh Ho più vita, io Ma ci credo Non gioco da un botto Oh, ma aspetta almeno Tranquillo, li apro comunque questi Apple Devi resti fare comunque, tanto al massimo la cura, Vicky Ah, però lì faccio abbastanza il pull Eh, ti ho detto, non sono tanto lì Tanto al massimo Tanto con un po' le mie bolle di fuego Che danno fanno Che mi devi sommare a ammazzare Quelli che mi arrivano vicini, punto Però se, però se Potrei fare una tecnica molto arcana Guarda così Tracker Bravissima Uso la cura alla fine di questo livello, eh Almeno così Sì, sì, tranquillo, ma quando vuoi Non per forza quando me ne ho bisogno Qui, vabbè, 15 secondi Comunque Tipo 20 secondi la ricarica da tantissimo Comunque se vi state chiedendo come mai ero talmente tanto illuminata Era semplicemente uno scudo Esatto, ho le spell Invece io ho la fireball Questa qui E la cura Ah, ma tanto Che è quella di prima Sì, che è quella di prima che facciamo i coglioni Vabbè, poi c'è Vicky che fa Giro, giro, tondo Giusto là Esatto Mayblade, spostati Esatto Eh, sì, ovvio Vabbè, lo scudo Non ti permette di prendere danno Anche se ogni tanto si bug Sì, vabbè, ma siamo su Roblox Quindi non dovete prendere tanto E' già tanto che c'è una modalità talmente No, però è molto gatto Fatta bene È fatta bene No, è anche fatta bene Fatta bene Eh, punto Cosa ho detto, scusa Esatto, poi vi dico Se troviamo la stanza del bug di quella stanza che Ah, sì È quella stanza mitica Tutti conoscono molto bene Ma perché laggo così tanto a fine di un fottutissimo livello? No, anche a me Anche a me mi ti è con le botte di lag, vai, tra Perché deve caricare Le cose che si toglie Eh, ma prima non lo faceva Cos'è? Hanno fatto gli aggiornamenti Però, peggiorandolo Eh, mi sei fermato il gioco BG per me Ok, apposto Mi ti è fermato il gioco Eh, proprio anche mai mi si fermava il gioco No, perché No, perché hanno aggiunto la nuova mappa dei pirati Deve sono calibrando su quella Non più sulle vecchie mappe Ah Eh, che pezzi di merda Si sono dimenticati di noi poverini Esatto Loro punto Vabbè, neveva tenere i pro Non i nabetti Come Eh, cioè veramente Vicky, anche te Eh T'ho visto con il quanto la gavi, madonna mia Ma Io e la mia mira Siamo una o due cose diverse Io e la mia mira Io ci devo andare in faccia Per usare le pane di fuego Quindi Wee Avete visto la mia mira Che bella Vabbè, un guru Facciamo una cazzata, Vicky Per appena Non di colpire, eh Non me di colpire Ti dico io Ah, quello che ho fatto anch'io Sì, sì, che bellissimo Oh no, uno sta secondo me Vai, usalo, usa, usa Usa la vita, usa la vita, usa la vita Vai, boh, boh, boh Vicky Con quanta vita sei rimasta Eh, ma poca, dai Giusto un pochino Aspetta che mi curano ancora un po' Ti prego No Beh, ma sparisce Cinque secondi Mi sembra che lui li va cura Aspetta che me li vado ad attirare Venite da me No, uccidesi Da qui non me li apro Vedete, io intanto li Io intanto broli colpisco Intanto Io intanto alcuni me li prendo Io almeno così Non ti faccio soffrire Pennelli in inferno Ok Vabbè, poi Ma vedi, prendi comunque danno Anche se c'hai l'oscura Vieni che ti sparo la cura È strautile sta cura Ammetto Sì, non è Poi vai più avanti Sblocchi pure la cura Che ti segue Tipo questa qua Ma che ti segue Oh, ma porca Che sei te proprio la cura vivente Ah, cool Cioè, non culo Cioè, è bello Culo Cool Culo Vabbè, la pronuncia delle culi È tremenda, comunque Cioè, con i miei 29 corpo a corpo Sono tremendi Esatto Ah, vedi Hai come, con i tuoi 100 A rotazione Mi sembra che faccia circa 200 Non mi ricordo Eh, però Aspetta che controllo Però con la rotazione fai di meno Però con la rotazione fai di meno Perché sento che Più loro ci hanno messo Che Fai meno danno 166 È aumentato di un poco Vabbè, sì, ovviamente Con la rotazione faccio di meno Però comunque Faccio i danni continui Boss No Ok Questa qua È quella bagazza Quindi va tranquillo Ti tiro la cura Eh, faccio vedere Vedete, vedete, ammazzare solamente un gruppetto Che è questo qui che non è nulla di che C'è l'ammazzare, ammazzare tranquillamente Tanto, chissà Vicky, mi sa che si blocca No, Vicky, no, aspetta, aspetta Aspetta Dammi da me, ammazzare questi prima E poi facciamo vedere il bug Eh, ma Eh, ma Eh, aspetta Eh, scusa Poi devo far vedere io comunque Ma come tu, ma Vaffanculo Vedete qui Adesso aspetta sei secondi A posto Ok Vedete, qua possiamo attaccarli Attraverso i muri Potete attaccarli Questi qui E invece quelli Per forza con delle fireball E così via Per forza Perché comunque Non so, qua c'è il muro Un pochino più largo Vedete E ci vedete Però Su quelli più avanti Non c'è il muro più largo Quindi potete tranquillamente Fare il tuo bug E quindi basta che vi ammazzate I primi E mettete nella magia Poi vedete qui Possiamo già attaccarli E' una cavolata Vedete Ah, ecco Il boss Ha poca vita Comunque Vi dico Che se morite Tanto lo uso Tanto ci se Che se morite Se non è in hardcore Le spawnate Cioè potete le spawnare Ma Vi tolgo ogni secondi da sopra Hardcore non potete più le spawnare Non potete Ricordate la nostra sottica Esatto La tecnica di Majula Il continuo però non si può dire Perché non è femmini friendly Esatto Eh vedi Magica Bula Kitty Kitty vuole bene Esatto Cioè veramente Ma lì toh Fai il tuo lavoro Da mago Eh lo sto facendo Gli trattando librate Altro che mago merdino Impara Ignorante Tranquillo Quando ti bevi dopo a capire Ti la lancio alla cuore Tanto non serve neanche Mi so Ma dai vicky Ma c'è cavolo duro Tanto chi se ne Toh vieni Città ci muoio lì toh Vabbè Ma l'ammazzo io l'ammazzo Toh Vedi Ok Oh ma oh Un tomo Col c'ho io E una staffa del fuoco Vediamo Vediamo per bene Canzone strafiga Ah si C'è una cosa da dire Hardcore hai una vita sola Però ti do due regali Mentre se vai in Normale Hai un solo regalo A fine livello Però hai le vite infinite Infinite no Perché comunque poi il tempo finisce Quindi Hai vite per dieci minuti Hai vite per dieci minuti Esatto Vediamo qui 51 61 C'è qua il quadro Che differenzia Esatto Vedete qua Volete upgradeare le vostre cose E tu mi sa che Ti interessa una Un'armatura Che ti dà 133 vita Non mi serve È una che dà 239 Ti interessa Una spada Che fa 49 di danno Ma 8 di potere magico E invece io ne ho una Che fa 54 54 10 Quindi vabbè Comunque Ho trovato Vedete Un Una cosa migliore Ho trovato Perché Non so Le stesse armi Non possono avere Le stesse statistiche Ci sono tre tipi Una che fa magari Più danno Di questo Magari Per esempio Io ho il tomo Questo qui L'avevo trovato Versione culo 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 Certo qui È un po' meglio E appunto che 66 Si fa 70 Potenziandolo So che cos'è Non ho capito Neanche io Ok Esatto Ma che C'è Fighissimo Però Qua c'è lo shop Shopini Vedete a me Ok Ma dov'è lo shop? È vicino alle monete Poi c'è In basso a destra Vedete qui Ma ti giuro Ma ti giuro Ma avevo mai visto Cosmetic Invece non agito da poco Extra item 2000 2000 Penso che non ne valga tanti Comunque È un dei temi in più Ogni volta Però non è che Ne valga tanto Ma esiste uno shop Per comprare Gli item Di questo Personaggio Non lo so Penso che la paranna Perfante Quindi Elite però Segui un po' Ti fa vedere Una cosa strana Fammi lo Mi fatti a vedere Però se non mi baggo Sulle cose Ma che bel martellone Bello Che c'ha questo Pietro Pietro Ciao Pietro Ma è pro bello Però Vedi Qua c'è un cerchietto Strano Secondo me Prima o poi Si può andare in barca Vai Che è una terra Di pirati Che è una terra Di catenari Una ciurmi Resitibile Andiamo Aspetta Oh 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 Copyright By Cover No E quindi Venga Vicky Che facciamo L'outro Venga Perfavore Ma non Dovamo farne Più di una No Poi scontrollo Quanto Vabbè Facciamone Una Che Vabbè Poi la faremo Vabbè Fabbè Dovamo vedere Se piace Esatto Non ci dobbiamo Mettere Due ore Per fare Una cosa Che magari Neanche Piace Con questa Magia A caso E questa Pala De fuoco A caso Vi dico Che per Questo Video È tutto Ci vediamo Ora Oh Un giorno Un giorno Un giorno Ci vedremo Vabbè Ci vediamo Alla prossima Al prossimo video Ciao ciao E da Vicky è tutto Da me E da Vicky è tutto Ciao Ciao